Lorenzo Bressani, stratega su Arca SGR, è arrivato stanotte da Saint-Tropez. Insomma, sei pronto per recatare oggi qui alla Barcolana 54 in maggio di sì, ovviamente? Siamo pronti, abbiamo trovato il solito gruppo di amici con Arca, che ormai è da un appuntamento quinquennale o addirittura di più, adesso non mi ricordo, parlo a memoria. Giornata difficile perché sembrava Bora stabile, invece guardando adesso proprio visivamente il Golfo è molto a buchi per cui la situazione è molto, molto aperta, abbiamo visto che sono quattro barche molto vicine col passo non nascondiamo ovviamente che la nostra ambizione è di vittore, la nostra barca ha un pelino di velocità in più però quando ci sono queste condizioni, in una legata così breve, è un attimo fare degli errori per cui siamo già in modalità race un po' nervosa. Ecco, tra poco c'è il dock out, prendete il largo, andate sulla linea di partenza ma qui ci sono grandi spostamenti di vele, è un po' difficile oggi scegliere quali vele migliori portali a bordo? Beh, è difficilissimo perché, ripeto, eravamo settati per 25-30 nodi e invece ne sono 5-10 e probabilmente in mezzo al Golfo 0 per cui stiamo cambiando tutto il sette nella barca e un po' pronti a tutti perché comunque il meteo continua ad arbora per cui fino alle 9.30-9.45 siamo pronti con le due versioni vento a bonaccia. Grazie Lorenzo. Ciao. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.